Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Nel libro dell'Ecclesiaste è scritto quanto segue Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e gli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero della eternità. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Dunque tutti gli uomini hanno dentro di loro il pensiero delle eternità, pensano all'eternità. In una maniera o nell'altra hanno quel pensiero. Ma non tutti gli uomini hanno la vita eterna. Tutti gli uomini hanno il pensiero dell'eternità, ma non tutti gli uomini hanno la vita eterna. Perché? Perché la vita eterna la possiedono solamente coloro che credono in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Infatti il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, disse queste parole. Chi crede ha vita eterna, ossia chi crede in lui. Perché c'è anche scritto chi crede nel figliolo ha vita eterna. Dunque la vita eterna l'uomo la ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo. Quindi la ottiene gratuitamente, per grazia. Questo perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. La vita eterna è in Cristo. Egli infatti è la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Dunque, chi ha il figliolo, badate bene, lo ripeto, perché questo è quello che è scritto, chi ha il figliolo ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Perché Gesù Cristo, il figliolo di Dio, è la vita eterna. Ecco perché è scritto che chi ha il figliolo ha la vita. Dunque, voi che mi ascoltate, dovete sapere questo. Avete una eternità davanti. Avete un'eternità, però, voi che siete sotto il peccato, un'eternità, dato che siete sotto il peccato, un'eternità nei tormenti. Perché un'eternità nei tormenti? Perché la sorte di coloro che sono sotto il peccato e che sono quindi dei peccatori è terribile, orribile. Infatti essi, quando muoiono, scendono in un luogo di tormento chiamato Hades, dove sono tormentati in mezzo al fuoco. Perché nell'Hades, comunemente conosciuto con il termine di inferno, c'è il fuoco. Un vero fuoco che arde. E là sono tormentate le anime di tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Poi, costoro, nel giorno del giudizio, risorgeranno in resurrezione di giudizio. Saranno giudicati da Dio, secondo le loro opere, e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, che è la morte seconda. Chiamato anche questo luogo il fuoco eterno. E là i peccatori saranno tormentati per l'eternità, nei secoli dei secoli. Il loro tormento non cesserà mai. Dunque, questa è la sorte che aspetta coloro che muoiono nei loro peccati. Ossia, questa è la sorte che aspetta coloro che non hanno il figliolo, e quindi non hanno la vita eterna. Quindi, quello che vi dico è questo. Ravvedetevi, cioè, abbandonate i vostri pensieri iniqui, cambiate modo di pensare, e credete in Gesù Cristo. Ossia, credete che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ebbene, credendo in questa parola, che è la parola della buona novella, ossia la parola del Vangelo, credendo in questa parola, voi otterrete la vita eterna. E potrete dire, proprio individualmente, io ho la vita eterna, perché ho il figliolo. Ma non solo riceverete la vita eterna, che è in Cristo Gesù, ma riceverete anche l'affrancamento dal peccato, perché voi in questo momento siete schiavi del peccato, e credendo nell'Evangelo sarete affrancati dal peccato. Poi otterrete la remissione dei peccati, perché la scrittura dice che tutti i profeti, di Lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quindi anche la remissione dei peccati sarà vostra, nel senso che la riceverete. Tutti i vostri peccati che avete commesso saranno cancellati in virtù del sangue prezioso di Gesù il Cristo, che egli sparse sulla croce per la remissione dei nostri peccati. Poi sarete giustificati, perché riceverete la giustizia di Dio, che si basa sulla fede, e che è rivelata nell'Evangelo che appunto vi ho annunziato. Sì, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vi va per fede. Quindi sarete giustificati, resi giusti dal Signore e Dio. E quindi sarete riconciliati con Dio, perché attualmente siete nemici di Dio nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ma credendo nell'Evangelo appunto sarete riconciliati con Dio. E allora potrete dire, giustificati dunque per fede, includendovi, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La vostra vita cambierà totalmente credendo nell'Evangelo, perché diventerete delle nuove creature, in quanto sarete rigenerati mediante la parola del Vangelo. e diventerete dei figlioli di Dio. Non sarete più dei figlioli di ira, come siete in questo momento, ma sarete figlioli di Dio, lavati, imbiancati, nel sangue prezioso di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi vi ho annunziato l'Evangelo credendo nel quale l'uomo ottiene la vita eterna. Ricordatevi queste parole, chi crede ha vita eterna. Ravvedetevi dunque e credete nel figliolo di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda.